De Micheli Caterina, presente, Castolari, la Quercio Rita, Barrelli, questa è Giavano, è presenza. Dalle prossime settimane, altre 101 famiglie del Drione De Gasperi a Ponticelli avranno una nuova casa e la seconda tranche di assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica recentemente edificati nell'8N di via Attila-Sallustro, sorteggiati questa mattina presso il Servizio Politiche per la Casa in Piazza Cavour. Noi abbiamo un lotto di palazzi da abbattere per dare seguito a giardini, scuole, un piano di riqualificazione. Abbiamo la zona rossa che impedisce di costruire altre abitazioni oltre a quelle già realizzate, a giugno dell'anno scorso abbiamo trasferito i primi 57 assegnatari di queste abitazioni, adesso vi sono altri 101 cittadini che sono o assegnatari o sanati perché precedenti al 1998 e che abbiano i requisiti di reddito, di possidenza e penali per poter avere un'abitazione. Realizzate in attuazione al piano di recupero urbano di Ponticelli, le nuove case sono state suddivise per quadratura ed assegnate ad estrazione, dando priorità ai soggetti con disabilità, ai nuclei familiari numerosi e all'età del titolare dell'assegnazione. Quindi Pisani Domenico e cito Raffaele, sceglie prima Pisani Domenico perché è il più anziano e deve scegliere nella cappella delle 122,82, ok? Quindi prendete un bigliettino. Tra qualche giorno queste famiglie lasceranno le abitazioni dove hanno vissuto per anni in condizioni di disagio e di forti carenze strutturali per entrare in case accoglienti e dignitose. In due parole diamo la casa agli aventi diritto, a coloro che hanno atteso 30 anni la rimozione di questo degrado, tratteremo differentemente la situazione di chi non ha i requisiti per avere un'abitazione.